Salve, sono Craig Vosberg, Senior Vice President of Development nel programma Accelerator di CA Technologies. In questo video vi parlerò di Digital Transformation. La Digital Transformation è un tema attuale in tutti i settori. Il motivo è che oggi le aziende interagiscono con i clienti mediante applicazioni mobile e online. E quando ogni interazione è basata su software, l'azienda deve diventare davvero brava a idearlo, svilupparlo e distribuirlo. Deve diventare una software factory. Creando una software factory, le applicazioni tengono il passo sia con le aspettative dei clienti che con la concorrenza. In più le app saranno protette e senza attriti. Per creare la software factory occorre considerare cinque aspetti. Primo, adottare un approccio Agile. Se usi ancora metodi di sviluppo a cascata, è il momento di passare ad Agile così da ridurre i tempi dei cicli e aumentare il valore con iterazioni più corte ed efficienti. Secondo, creare un business connesso. L'uso di API accelera la velocità di sviluppo aumentando il valore per clienti e partner e aprendo la strada a nuove opportunità. Terzo, integrare la sicurezza nello sviluppo. Non si può aggiungere la sicurezza alla fine. Rendi la parte integrante del ciclo di sviluppo per proteggere i dati senza compromettere comodità e facilità d'uso. Quarto, creare un loop di feedback. Distribuire software senza acquisire insight sulla user experience conduce all'insuccesso. Occorre misurare le performance del software e reintrodurre i dati nel processo per assicurarsi che l'esperienza sia sempre ottimale. Infine, adottare l'automazione. Il mantra deve essere automatizzare o soccombere. Usa l'automazione ovunque possibile per ridurre gli errori, aumentare prevedibilità e rendimento e dedicare le risorse ad ambiti di maggior valore aggiunto. La digital transformation non è facile. Ma seguire questi cinque principi per creare una software factory è il percorso ideale per giungere al roll-out continuo di nuove esperienze basate su software. Grazie per l'attenzione e arrivederci!